I pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta Marto saranno proclamati santi il 13 maggio prossimo. Lo ha annunciato Papa Francesco nel concistore ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione che si è tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano. La canonizzazione verrà durante il viaggio apostolico del Papa a Fatima nel centenario della prima apparizione della Vergine. Quando la Madre di Dio apparve a Francesco e Giacinta Marto nel 1917, i due, fratello e sorella, avevano 8 e 7 anni e assieme a loro era presente la cugina Lucia dos Santos, 10 anni. Tre anni dopo Francesco e Giacinta morirono per l'epidemia dell'influenza spagnola, mentre Lucia è scomparsa a 98 anni nel 2005. Bambini praticamente analfabeti, pastorelli ebbero una vita ricca di fede, amore e preghiera, ha spiegato il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che ha presentato le figure dei nuovi futuri santi. Saranno invece canonizzati il 15 ottobre prossimo 30 martiri brasiliani massacrati nel 1645 durante l'occupazione olandese nel nord-est del paese. Andrea de Soveral, Ambrogio Francesco Ferro, sacerdoti diocesani, il laico Matteo Moreira e 27 compagni furono trucidati dai soldati olandesi per non aver abbiurato la fede cattolica e non essersi convertiti al calvinismo. Insieme a loro saranno proclamati santi gli adolescenti martiri messicani Cristoforo, Antonio e Giovanni. Educati dai francescani nella prima metà del 1500 si allontanarono dal culto locale degli idoli e venero uccisi, Cristoforo dal proprio padre. Infine saranno canonizzati il 15 ottobre anche Faustino Mighez, sacerdote scolopio spagnolo, vissuto a cavallo fra l'800 e il 900, fondatore dell'istituto Calasanziano delle Figlie della Divina Pastora, e il frate Cappuccino Angelo d'Acri, al secolo Luca Antonio Falcone, vissuto tra il 1600 e il 1700 nel regno di Napoli, instancabile e divulgatore della parola di Dio e difensore dei deboli dagli abusi dei potenti.